48 ore fa abbiamo scoperto qualcosa di incredibile Che avete trovato? C'è una struttura In Antartide E un esemplare Sul serio? Siamo atterrati Lei è Kate Lloyd, paleontologa alla Columbia Vi mostro perché avete volato per 10.000 miglia Riteniamo che sia qui da 100.000 anni Voglio prendere un campione di tessuto Crede che sia una buona idea? Sì, certo Voi, amici miei, verrete ricordati come gli artefici di questa scoperta Hai sentito? Mio Dio Qualcuno è stato attaccato Mi sembra che qui stiano tutti bene O qualcuno è miracolosamente guarito O qualcuno non è quello che sembra Bruncolo! Che gli stava facendo? Imitava le sue cellule Credo che questa cosa cloni le sue prede E ci si nasconda dentro Che stai dicendo? Non siamo tutti umani Può essere in ognuno di noi Non possiamo lasciare in vita questa cosa Se scappasse morirebbero milioni di persone Che stai dicendo? Che stai dicendo? Grazie a tutti